Le novità di questo sindacato è che noi da quest'anno abbiamo deciso, un percorso preso da diversi anni, di diventare quello che deve essere il sindacato del futuro. Dobbiamo essere un sindacato che comunque sta con i lavoratori, un sindacato che però sta dalla parte del lavoro. Ma questo qua non è un'innovazione di quest'anno, ma l'abbiamo già scritto nello statuto 70 anni fa. Noi siamo il sindacato della partecipazione, quindi partecipazione vuol dire comunità al lavoro, compresa di lavoratori, compresa di imprese, compresa di tutto quello che gira intorno al mondo del lavoro, perché noi crediamo che nella comunità del mondo del lavoro ci sia la soluzione a questa crisi che ormai portiamo avanti da ormai 13 anni e crediamo anche che le soluzioni date dagli altri non siano soluzioni reali perché non si è trovato. Noi vogliamo dare un cambiamento, abbiamo cambiato anche il logo, lasciando comunque la nostra scritta UGL all'interno, ma mettendo un logo che anche poi, vedendolo, sta dentro a una situazione non definita nello spazio, con delle lissi, ma dentro un perimetro di situazioni bestampite, perché noi crediamo che oggi in una situazione del mondo del lavoro, del mondo in generale, molto liquida, noi ci troviamo al centro e con i nostri valori, con le nostre identità, dobbiamo cercare di inquadrarla all'interno di una prospettiva per l'Italia, per il lavoro e soprattutto per lo sviluppo che oggi manca e manca tantissimo in Italia. E quest'oggi la sede di Palermo del UGL appunto festeggia i 70 anni, 70 anni di storia ed è proprio la festa del tesseramento. Esattamente, oggi proprio a Palermo si festeggiano la festa del tesseramento, dobbiamo dire però che questa festa è iniziata, oggi io presiedo assieme al nostro segretario confederale Ezio Favetta la festa del tesseramento e verranno distribuite tutte le tessere a tutti i segretari provinciali che porteranno la lista degli iscritti. La novità di questa festa del tesseramento riguarda anche un piccolo particolare che non è così piccolo ma è importantissimo il cambio del logo nella nuova tessera e questo cambio del logo ha un significato molto particolare vorrei dire un cambiamento per tutto quello che è il mondo del lavoro perché lo slogan che è stato messo sulla tessera è che il lavoro cambia, cambiamo anche noi. L'UGL è una realtà sindacale attiva sul territorio come è dimostrato dai recenti incontri che si sono svolti proprio nella sede qui a Palermo, in particolare l'incontro con l'assessore regionale della salute Ruggero Razza. Sì, è un sindacato sempre più visibile in Sicilia, è un sindacato sempre più legato al rinnovamento e al cambiamento sulla scia di quanto sta facendo a livello nazionale il nostro segretario generale Capone che con l'ingresso del 2020 UGL Cisnal festeggia il settantesimo anniversario dalla nascita in tutta Italia come in Sicilia abbiamo iniziato già alla fine del 2019 una serie di eventi importanti che si completeranno nel corso di quest'anno con diverse e tante iniziative prima fra tutte la presentazione del simbolo, del nuovo simbolo che è proprio sulla scia del profondo cambiamento.